Donare un sorriso, un po' di svago ai giovani pazienti del reparto di assistenza psichiatrica dell'ospedale Franz Tappiner di Merano. Tutto attraverso la lavorazione dell'argilla, non solo in un determinato periodo, ma nel corso di tutto l'anno. La Fondazione Tuna ha presentato proprio al nosocomio meranese il secondo laboratorio che opera con la ceramica, un laboratorio permanente che ha permesso ai giovani partecipanti di realizzare questo splendido albero esposto nel corridoio del reparto. Lo scopo è di consentire loro di concentrarsi su qualcosa che ha un inizio e una fine e di avere la possibilità di vedere alla fine delle attività un prodotto. I ragazzi sono contenti, sono curiosi e quindi posso dire che questo tipo di laboratorio stimola non solo la loro creatività, ma anche la loro curiosità e la loro attenzione e concentrazione. Da otto anni la Fondazione Tuna Onlus è impegnata in tutta Italia in progetti di terapia ricreativa attraverso la modellazione della ceramica. La psichiatria in particolare trae un beneficio molto forte dalla ceramica terapia. Abbiamo riscontrato anche con studi scientifici insieme al Policlinico di Roma gli effetti benefici, il ritorno di autostima, non è una cura vera e propria medica chiaramente, però sostiene e accelera il benessere del paziente. Con le pediatrie oncologiche abbiamo fatto gli studi con dei risultati ottimi e questi risultati sono ancora maggiori nelle psichiatrie. La fondazione nostra mette a disposizione una ceramista professionale, mette a disposizione un team di volontari che vengono nei laboratori e nell'ospedale e dedicano il loro tempo ai bambini e mette a disposizione tutti i materiali necessari di la creta stessa, chiaramente i pennelli, i colori, i grembiulini e la collaborazione fantastica è quella che l'ospedale mette a disposizione di spazi. Un laboratorio utile ed efficace, in grado di aiutare realmente i giovani pazienti ad affrontare anche la terapia medico-farmacologica, portandoli ad esprimere le loro emozioni.